Oggi shopping a Arco di Riva da Garda con la mia mogliettina Beatrice e la nostra Cagnolino Superstar Merlin. Siamo in piazza di Arco davanti alla chiesa. La mia mogliettina è la nostra Merlin Superstar, fronte alla chiesa di Arco. Vicoli stretti di Arco in centro. Con queste immagini siamo alla fine del video. Arco di Riva da Garda a Trentino.